Ci sono delle elezioni importanti quanto quelle municipali che sono le elezioni europee che hanno contrassegnato in negativo finora la nostra partecipazione al voto come siciliani. Ed è un passaggio che dobbiamo fare perché queste elezioni europee sono indispensabili per i prossimi assetti, i prossimi equilibri in Sicilia. Ed è un tema questo che ci deve parlare.